Noi abbiamo figli adolescenti, ma lei ha visto quella campagna di propaganda per l'anoressia? Chi ha delle figlie, anche dei figli, ma soprattutto delle figlie, non avverte il bisogno che la rete sia un bellissimo strumento tutelato. Allora io dico, senza fare leggi di censura, senza bloccare niente, possiamo fare un patto per cui le schifezze che fanno del male ai nostri figli, quelli che dicono cura miracolosa contro il cancro, ci sono milioni di persone che stanno vivendo il cancro come dramma, o quelli che dicono i vaccini creano morte e sappiamo che non è vero. Possiamo evitare che Facebook diventi la pattumiera, che la rete diventi il luogo nel quale facendo soldi, perché questi schifosi fanno i soldi con questi click. Ecco, per me questa le dico, sì Fazio, è una priorità.